Siamo con Mattia Minesso, un commento sulla partita? Non riuscire a vincere, teniamo buona la prestazione e ripartiamo da quella. Che cosa poteva fare il Perugia di più per vincere questa partita? Diciamo che forse dovevamo essere un po' più concreti negli ultimi 20 metri perché le occasioni le abbiamo anche avute, solo che forse siamo stati poco cattivi sotto porta e questo ha portato a non riuscire a finalizzare. La prima da titolare, come ti senti? Sì, rientravo dopo un infortunio muscolare, fisicamente sto abbastanza bene, ovviamente mi manca ancora forse il ritmo partita per i 90 minuti, però sono rientrato, mi sento bene, sta procedendo tutto per il meglio.